Penso alle spietate incursioni e alle barbare persecuzioni religiose che tuttora perdurano in Nigeria, a scapito delle comunità cristiane, o alla situazione nel Sudan, nella regione del Darfur, in Pakistan come in Medio Oriente. Se vengono a mancare pace e libertà religiosa, allora viene a mancare anche il più prezioso degli strumenti per una vita civile pacifica e ordinata, la democrazia. Difendere le comunità cristiane dalle persecuzioni e dalla discriminazione significa per il nostro movimento lottare per la libertà e per il rispetto della dignità umana. Ecco perché occuparsi di libertà religiosa dei cristiani diventa una battaglia in difesa della democrazia. Diceva Giovanni Paolo II, la libertà religiosa è la cartina di tornasole di tutti gli altri diritti. È una frase a doppio senso. In primo luogo la libertà religiosa è un test, un barometro di civiltà di un popolo. In secondo luogo la libertà religiosa considera ogni essere umano per la sua natura religiosa. Questa natura religiosa è una forza attrainante nello sviluppo dell'individuo, nella società, ed è anche il fondamento di ogni giudizio che porta alla libertà religiosa. Se si intacca la libertà religiosa allora viene toccata la natura interiore di ogni essere umano. Nessuna guerra si può fare in nome di Dio ci richiamava sempre questo grande pontefice.